buongiorno dalla balsa mobile qui su questo canale non si dicono cose a vanvera nel senso che come sapete prima di esprimermi cerco di documentarmi se mi sbilancio un attimo è perché posso permettermi di farlo mi nico i savage mi sono preso una pausa l'accelentano non sapevo come iniziare dici il nome e già detto tutto allora la chiacchierata in corso la trattativa vera e propria no ma i contatti ci sono trovate anche su one football dei riferimenti ci sono perché perché alla juve interessa questo giocatore perché le ho interessato questo giocatore perché interessa d'allegri che chiede un centrocampista di fisicità vinico vissavi non è un regista eventualmente e lì posso essere anche d'accordo con quanto ho letto per lavorare sulla trasformazione da regista di locatelli cercare un regista forse era la via più semplice non lo so e lavorare invece sul rafforzamento della fisicità di locatelli però poi dopo ognuno fa le scelte che vuole ammesso che vadano in porto perché cosa ho detto c'è una chiacchierata in corso ma entrare come avevo anticipato e come ben sapete entrare in una trattativa con l'otito non è semplice anche se forse mai come in passato l'otito pressato anche dal giocatore è aperto ad una trattativa prima le chiudeva sparato aveva sparato 120 milioni o adesso non ricordo una cifra del genere poco prima del mondiale del 2018 quando si parlava già di una milico vissavi in orbita juventus ma non ci sarebbe solo la juventus dopo ci arriviamo adesso c'è un'apertura al dialogo e con l'otito è un grosso passo avanti anche perché sennò poi rischia di perdere l'azzo non ricordo quale sia la scadenza però poi dopo quando un calciatore comincia a rompere perché se ne vuole andare insomma il rischio è forte il rischio è forte però lui chiede 70 milioni che la juve ritiene eccessivi la juve che a sua volta potrebbe arrivare a intorno ai 50 magari spingersi un po più in là con qualche bonus perché poi dopo ragazzi in queste trattative qua bisogna sempre specificare che c'è una base poi dei bonus successivi e che comunque i pagamenti vengono sempre dilazionati ricordo che anche il riscatto di chiesa a 40 milioni è dilazionabile dilazionato verrà dilazionato in tre esercizi vuol dire in tre anni in tre stagioni vabbè torniamo a Milenko Vissavic per il giocatore sarebbe pronto un contratto di circa 4 milioni a salire lui prende 3 milioni qualche cosa lì alla Lazio meno di qualche cosa 3 milioni e meno di qualche cosa lì alla Lazio e quindi per lui sarebbe non solo raggiungere un grande obiettivo di carriera tecnico non solo poter competere su altissimi livelli e comunque superiori a quelli a cui è stato abituato a competere con la Lazio ma anche un aumento considerevole in termini di ingaggio perché dico considerevole perché evidentemente tra tre e quattro non c'è molta differenza perché lì poi scattano altri bonus no in base a obiettivi personali e di squadra raggiunto insomma sarebbe un grande affare per lui per lui per la Juve lo può diventare se Lotito scende da quei 70 milioni però per dirvi che insomma sostanzialmente questa trattativa c'è e per ribadirvi che a Lotito piace molto il signor Fagioli della Juventus ve lo ribadisco ancora per l'ennesima volta a Lotito a Sarri piace molto Fagioli della Juventus a Sarri e quindi vediamo un po' come andrà a evolversi questa situazione ma sarà da seguire forse molto più di quanto non fosse stata seguita nel 2018 questa è l'idea per il centrocampo della Juventus e secondo me a parte quello che ho detto prima su Locatelli eccetera ragazzi Milinkovic Savic è mica pizze fichi insomma no è un giocatore sicuramente di livello nazionale giocatore molto molto dotato anche tecnicamente e due palle così insomma c'è tante similitudini con Vlaovic perché parlo di Vlaovic perché è un po' il volto triste della Juventus no? l'avete notato la sostituzione contro la Fiorentina la sostituzione contro il Venezia domenica scorsa è incazzato nero incazzato nero ma è normale con un attaccante non segna poi però è chiaro che un attaccante non segna e dice beh starò in campo fino all'ultimo minuto perché voglio provarci fino all'ultimo minuto no? e invece no viene tolto prima sia con la Fiorentina che con il Venezia è vero che le ragioni di squadra devono sempre prevalere sulle ragioni di singoli però un attaccante la vive diversamente insomma se fosse uscito un centrocampista non aveva quella faccia se uscireva un difensore non aveva quella faccia esce un attaccante che non ha se un attaccante se avesse segnato sarebbe uscito con una faccia completamente diversa anche se gli attaccanti quando insegnano uno dicono beh cacchio però se mi teneva dentro ancora un quarto d'ora magari facevo anche il secondo e se ne ha segnati due dice ma magari facevo pure tripletta l'attaccante non è mai contento eh mai 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 però insomma se non segna è peggio ancora e ho sotto mano casualmente una statistica un po' particolare perché la stagione di Blauic è divisa in due squadre Fiorentina e Juve guai ad abbinarle però bisogna abbinarle quantomeno sul rendimento con la Fiorentina lui gioca 24 partite segna 20 gol attenzione che mi sono portato anche gli appunti giocando 2038 minuti e realizzando un gol ogni 102 minuti un gol ogni 102 minuti con la Fiorentina con la Juventus lui gioca 17 partite perché fa l'esordio il 6 di febbraio quindi a pieno girone di ritorno o comunque girone di ritorno già iniziato gioca 17 partite per complessivi 1372 minuti fino alla sostituzione di domenica i gol sono 7 ed è un gol ogni 196 minuti un gol ogni 102 con la Fiorentina un gol ogni 196 con la Juve quasi il doppio di attesa tra un gol e l'altro il problema c'è è evidente i numeri sono lì a certificarlo il calcio è fatto anche di numeri e i bilanci a volte si fanno proprio sui numeri però Fiorentina e Juventus sono due realtà completamente diverse non so se avete seguito tiki taka l'altra sera c'è stato un interessante dibattito nel quale è intervenuto Oscar Damiani che di calcio se ne intende è vero che fa il procuratore ma è stato un ottimo calciatore tra l'altro anche della Juve numero 7 mi ricordo Flipper Damiani sono abbastanza attempato per ricordarmelo e lui diceva la Juve gioca la Fiorentina giocava negli spazi larghi la Juve specie contro le piccole gioca negli spazi stretti perché le piccole si chiudono e tu fai fatica a trovare e lui è un giocatore che negli spazi larghi si trova meglio e deve migliorare negli spazi stretti l'ha detto Damiani non Allegri eh ragazzi e quando gli fanno notare che però allora Allegri deve dargli la possibilità di muoversi negli spazi larghi giustamente Damiani fa notare a sua volta che non è che la Juve decide come devono giocare le altre squadre se le altre squadre si chiudono come spesso accade ed è ragazzi è obiettivamente più difficile quindi ci sarà da fare del lavoro su Dusan Vlaovic ma questo lo diciamo da tempo perché perché negli spazi stretti cosa salta fuori il controllo di palla lo stop la rapidità il saper usare bene sia il destro che il sinistro e sono quelle cose che l'esplosività più che la rapidità la rapidità ce l'ha nell'allungo lanciato negli spazi larghi sono quelle cose che Allegri ha detto cambia il modo di giocare mettiamoci un'altra cosa la pressione la pressione compagni di squadra attaccanti più forti rispetto a quelli che aveva nella Fiorentina ci sono tante componenti ci vuole pazienza secondo me il vero Dusan Vlaovic si vede l'anno prossimo fatemi sapere cosa pensate di queste riflessioni intanto io sono qua a leggerle poi è vero che non posso rispondere a tutti ragazzi ma io leggo tutto leggo tutto tranquilli che leggo tutto e credo che qualcuno di voi ogni tanto lo capisca ciao ragazzi a stasera con il secondo video grazie a tutti